Abbiamo trovato il gioco perfetto per le feste E abbiamo provato un titolo che tutti ci hanno detto Ah è bello, che bello questo titolo, che brutto, che noia questo titolo Ciao a tutti giocatori, giocatrici, semplici, curiosi Noi siamo i giullari, è venerdì e siamo qui in mansarda per un nuovo diario Per raccontarvi tutto ciò che abbiamo giocato nella settimana appena trascorsa Come sempre vi ricordiamo che se vi piace quello che facciamo Oltre a lasciare un like, commentare i nostri video Così da aiutarci ad aumentare l'engagement per l'algoritmo Tutte queste parole fiche Siamo anche su Patreon, quindi qua sotto in descrizione trovate tutte quante le informazioni Scoprite quali sono i contenuti esclusivi a cui potreste avere accesso Anche perché è utile questo parello di tante 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 uscite Oh sì mamma mia Titoli che stiamo registrando adesso ma che vedrete il prossimo anno Magari invece su Patreon trovate già dei video in anteprima È l'unico modo, portate pazienza Iniziamo col parlarvi del gioco delle feste Ossia il maledetto dilemma di cui avete visto anche il nostro gameplay Questo mercoledì con i nostri due fantastici ospiti Se non l'avete visto correte a recuperarlo dopo aver messo a letto i bambini Perché è un gioco che diciamo ecco si presta molto amabilmente anche a prendere delle derive Un po' un pochino adulte Bravo Vale L'ora di proibito, di vietatissimo, di oro scopone, super porno show Nel gioco i giocatori saranno a turno messi di fronte a dei maledetti dilemmi In quanto vi verrà dato, regalato un superpotere potenzialmente fighissimo Ma a questo superpotere sarà anche associata una super sfiga Voi dovrete scegliere in cuor vostro se accettate questa combinazione di superpotere e super sfiga Oppure no E per farlo al 3 Si mettono tutte le mani al centro 1, 2, 3 Pollice alzato se si accetta Pollice abbassato se non si accetta E questa cosa viene fatta contemporaneamente da tutti i giocatori Chi riesce ad azzeccare, quindi a prevedere in modo corretto Cosa sceglierà il giocatore di turno Il maledetto giocatore fara punti Il gioco si presta bene sia tra persone che si conoscono E quindi ci possono anche essere delle piacevoli sorprese Sulle scelte che prende il maledetto giocatore Ma anche tra persone che tra di loro non si conoscono Perché è il gioco stesso che ti crea l'affinità Secondo me la marcia in più che ha il maledetto dilemma Rispetto a altri giochi che sfruttano dei concept simili Tipo left or right dilemma È proprio quello che Anche se non ti conosci così bene Con le persone al tavolo Magari è un gruppo allargato O persone con cui magari lavori Ma non è che sei così tanto intimo Da conoscere magari certe cose specifiche I super poteri Le super sfiga che ti vengono messe davanti Sono talmente tanto assurde Sopra le righe, fuori di testa Stupide tante volte Che davvero non hai idea di cosa possa rispondere qualcuno Anche se è la persona con cui vivi in quel momento Che conosci da tutta quanta la vita Perché ci sono veramente dei poteri Talmente tanto scemi O talmente tanto forti Che puoi provare a immaginare Cosa penserebbe qualsiasi persona Sulla faccia della terra Anche perché la questione dei punti E del punteggio Passa in secondo piano Quindi non è che mi devo scervellare Su cosa pensa il maledetto giocatore Per fare il punto Te ne frega proprio niente Perché poi il gioco è talmente divertente Che non lo giochi per fare i punti E per vincere Sì, quello che si va a ricercare di più Secondo bene fare il gioco Quello che il gioco poi ti porta a fare E giustificare il Perché hai votato sì Ma perché hai votato no Ma io ho messo sì Perché assolutamente con questo potere Vorrei No ma perché Ma figurati Ma invece con questa sfiga In realtà posso ribaltare Tutto il ragionamento E vedere come ragionano le persone Messe di fronte a questi dilemmi Assurdi È veramente figo Il fatto poi che siano le persone stesse I giocatori stessi A creare i dilemmi Per il maledetto giocatore Questo permette anche di andare A scegliere da un lato Super sfighe Che magari contrastano bene Il super potere di quel momento O quando ci si conosce Andare a mettere delle cose Su cui sai che stai andando a toccare Magari dei nervi scoperti Dell'altra persona Ma soprattutto le varie combinazioni Che ci sono Che possono portare a più di 10.000 Mi sa c'è scritto sulla scatola Quanti sono Non me lo ricordo Ma tantissimi Mille mila dilemmi diversi Cifre meravigliose Anche la grande quantità di dilemmi Che ci sono Comunque porta veramente le partite A mai ripetersi A mai diventare ripetitivi O a dire Ah vabbè E di nuovo è uscita questa carta Quindi so già come risponderai Perché lo stesso super potere Associato a una super sfiga diversa Comunque cambia il modo in cui si risponde O una stessa super sfiga Associato però a un diverso super potere Può essere vista in modo diverso Con altri occhi Ci teniamo ancora a specificare Che il gioco è in tutto e per tutto Un party game Che si può anche giocare in due giocatori Quindi non confondiamo La questione party game Dobbiamo essere in 8.000 persone Anche in un gruppetto Molto rispetto 2-3 giocatori Ma anche in due Ve lo potete tranquillamente giocare Perché tanto il gioco funziona Esattamente allo stesso modo Farete più mangi Girerete più Creerete più accoppiate Le farete in modo casuale Fatele come volete voi Ma lo potete tranquillamente giocare in due Noi le primissime partite Le abbiamo proprio provate in due E le abbiamo provate sia con amici più stretti Che conosciamo meglio Sia anche come avete visto proprio nel gameplay Con Marco e Luca Che si conosciamo Ma non siamo così intimi Non ci conosciamo Da tantissimo tempo Non abbiamo condiviso tante cose Nella nostra vita Eppure il gioco funziona Se si crea E' super divertente Come avete visto Perché poi intanto Se si vuole Con la malizia La mente va sempre lì Si va sempre a cercare Quella roba lì Molte carte Ti portano obbligatoriamente in quella direzione Ma se non l'avete visto Andatevi anche a recuperare il gameplay Perché secondo noi Merita davvero la pena E' davvero il gioco Da avere pronto Per le future feste Che sia il Thanksgiving Se lo festeggiate La festa del grazie O ancora Andate poi A già pensare al Natale Ecco che E' il gioco che Veramente Non vi può mancare Questo maledetto dilemma Link qua sotto E andatevi a recuperare Assolutamente il gameplay Che cazzo è sta festa del grazie Vi parliamo ora di Fire Siege L'altro gameplay Che avete visto Questa settimana Questo lunedì Progetto che si trova Attualmente su GameFound Vi lasciamo anche qua sotto In descrizione Il link alla campagna Così da poter andare Ad approfondire Ancora di più il gioco Di cui vi diamo ora Le nostre impressioni Impressioni che Così come il gameplay Che avete visto Si basano però appunto Sulla prova di un prototipo E ci teniamo a dire Di un prototipo Di qualche mese fa L'abbiamo registrato Prima di questa estate Trascorsa Lontanissima estate Ormai Ma quindi Le nostre impressioni Si basano ancora Su quella prova Di quel prototipo Che chiaramente Adesso è già stato Ci hanno già avvisato Comunque hanno Ribilanciato alcune cose Hanno modificato Anche a livello grafico I materiali E i componenti Però diciamo che Il succo del gioco E le nostre impressioni Sono ancora valide Il gioco è un collaborativo In cui noi rivestiamo I panni dei guerrieri Della città Che devono difendere Il loro re Che è al centro Della cittadella Che è invasa Da queste figure Cattivissime Che vogliono andare A ucciderci il re E a prendere il controllo Della città Spacchiamo tutto Il gioco è un collaborativo Puro Di Tower Defense Per usare termini fighi Nel quale La nostra comunicazione È limitata Così come anche le informazioni Che i giocatori Hanno a disposizione E la comunicazione Pur essendo limitata È fondamentale E obbligatorio Comunicare E fidarsi Dei giudizi Degli altri giocatori Per riuscire A completare Il nostro obiettivo Ovvero quello Di raggiungere Un determinato Di numero Di punti vittoria Per fare punti Noi avremo obiettivi diversi Che cambiano di partita In partita Che vengono scelti O comunque pescati a caso All'inizio della partita E che quindi Questo dà già grande Variabilità Alle nostre partite Così come anche I diversi poteri Dei personaggi Che sceglieremo Di interpretare Che sono tutti quanti Asimmetrici Inoltre per una meccanica Di gioco Possiamo anche Risvegliare il nostro potere Sopito Diventare più forti Nel corso della partita E aumentare ancora di più Le differenze Tra un giocatore E l'altro Dicevo che è obbligatorio Fidarsi degli altri Aspetto che va anche Ad ammazzare completamente La possibilità Di giocatore alfa All'interno della partita Ovvero quello che Obbliga tutti quanti Giocatori a fare Cosa vuole lui Proprio perché Noi la nostra Meccanica principale Di gioco Il modo con cui Noi agiremo E faremo le azioni Possibili Nel corso della partita E quello di utilizzare Delle tessere Che abbiamo davanti a noi Tessere che pescheremo Da un sacchetto E su cui ci sono Rappresentate le azioni Che potremmo fare Da un lato Quello bianco E sul lato nero Invece le azioni Che faranno i nemici Le cose brutte Le schifiche Che ci capiteranno Nel corso della partita Il fatto è che Come io pesco la tessera Vedrò o il lato bianco O il lato nero E non potrò vedere Il lato opposto Che lo vedranno Soltanto i miei compagni Di gioco E quindi dovrò Fidarmi del loro giudizio E non potranno mai Dirmi esattamente Ah con quella Tessera Puoi fare Tre azioni Aumentiamo il tracciato Non potranno dirci Esattamente Cosa facciamo Ma ci potranno dire No guarda Quella lì adesso È troppo brutta Non usarla No guarda Quella se la usi Adesso la stiamo sprecando Prova a fare qualcos'altro E tu ti puoi dire Eh ma di qua Io questa cosa Non è che la voglio fare Perché cavoli Sarebbe meglio fare questo Perché riesco a fare Delle robe belle Quindi bisogna riuscire Con questa comunicazione limitata Ad accordarsi Sul cosa fare Cercando di fare Il meno peggio Il più delle volte Il gioco è proprio qua Perché sì Io devo sconfiggere Cattivoni Sì devo proteggere Il re Ma il centro del gioco È proprio la comunicazione Che si crea Tra i giocatori Quindi avere occhio Di cosa sta succedendo Sulla mappa Di cosa posso fare io Cosa può fare il mio personaggio Ma devi avere Proprio anche Bene in mente E vedere Anche tutti gli altri Giocatori al tavolo E quindi sì Fidarti Quindi se sei già Un giocatore Che fatica Ad affidarsi agli altri Qua il gioco Te lo richiede Perché tu vedi Cosa è davanti Non vedendo Cosa è dietro Vedendo anche più o meno La situazione Che hanno gli altri Sulle loro tessere Dici va bene Non la farò Mi fido E quindi poi Il fidarti Comporta anche lì Poi un'altra discussione Perché dire Vedete Però io di qua Che cosa avevo prima E quindi è proprio bello La dinamica Che si crea Tra i giocatori Al tavolo Il gioco ha tanti livelli Di difficoltà Se avete visto Il nostro gameplay Che vi ricordiamo È basato su un prototipo E hanno modificato cose Perché sono passati Un sacco di mesi Comunque si può Veramente alzare Di tanto L'asticella Della difficoltà E poi ciò che già Varia tanto Sono anche gli obiettivi Che vengono rivelati All'inizio della partita Quali warlord Magari Quali nemici più grossi Possono entrare in gioco Perché ognuno Ha le sue abilità I suoi poteri Quindi c'è Tanta variabilità Già solo data appunto A livello di setup E di come accadranno Le cose nel corso La partita Ma volendo Si può proprio andare Ad aumentare Il livello di difficoltà Per crearvi il gioco Magari un po' più semplice Se siete alle prime armi O invece con una sfida Più tosta Se siete già Giocatori abituati Un po' più scafati Su questa tipologia Di collaborativi Vi piacciono Se volete una sfida Bella tosta Sappiate che il gioco Ve la permette Vi ricordiamo ancora Qua sotto in descrizione Il link per andare A vedere la campagna Nel caso non l'abbiate fatto Recuperatevi il nostro gameplay Perché pur essendo Un prototipo di qualche mese fa E comunque Tutto quanto valido Quello che diciamo E che mostriamo All'interno della partita E poi fateci sapere Cosa ne pensate Abbiamo poi giocato Iki Titolo che questo anno passato Ha vinto Ed è stato candidato In un sacco di premi In tutta quanta Europa Ed è un titolo Che ci ha Sempre incuriosito Ma che non abbiamo Mai provato Perché ci è sempre Stato detto da tutti quanti Che in due giocatori Non funziona bene Noi giocando prevalentemente In due Non l'abbiamo recuperato Fino a quando Grazie a Marco Che ultimamente Ci sta facendo giocare Un sacco di titoli nuovi Siamo riusciti Anche a giocare In tre giocatori Proprio a Iki Grazie Mario Nel gioco noi saremo Dei mercanti Che si aggirano Per il mercato di Iki E a ogni turno Noi sceglieremo Di quanto potremo Muovere il nostro mercante Che a seconda del settore Della plancia Su cui si troverà Potrà attivare L'azione di quel settore E gli eventuali negozi Ossia carte Che i giocatori Giocano all'inizio Dei loro turni Nei vari settori Potremo anche attivare Questi negozi Per attivarne l'abilità Con il trick Che se il negozio È nostro Bene Prendiamo quello che ci dà Se di un altro giocatore Lo stiamo in realtà Aiutando Il suo omino Che lavora all'interno Di quel negozio E quindi avrà Delle rendite maggiori Nel corso della partita Quando si attiveranno Quei lavoratori Il gioco di per sé Ha tanta roba Tanti elementi Tanti simboli Tantissime carte Pure troppe carte Probabilmente All'interno del gioco Ma di base Non è così complicato È anche parecchio lineare Capisco perché sia stato Così tanto premiato Perché è molto bello Dal punto di vista Dei materiali Grafico È molto ben colorato Insomma È molto anche Ben ambientato Il gioco Ha molti elementi Sì però È comunque Tutto sommato Lineare Quello che dovrai fare Più o meno Ce l'avrai sempre Sott'occhio Ci sono tanti modi Per fare punti Si possono perseguire Strade diverse Ma tutte quante Sono valide Allo stesso modo Per poi fare punti Alla fine della partita Con vari modi Di collezione Set Di varie cose Che capitano In giro per il mercato Ci sono tante cose Da fare Però poi effettivamente Il tempo per fare queste cose Non è tanto Perché comunque Il contaturni Va avanti abbastanza velocemente E arriva anche un punto In cui scoppiano Questi benedetti Maledetti I cattivissimi incendi Io diventerò Il pompiere Quindi cosa succede Che a caso Si gira Una tessera Che indica la zona In cui Divampa l'incendio Se tu sei Il primo Ad essere lì Ciccia ciccia Per di tutto Quello che c'è Il mercante La carta Le cose che hai messo sopra Ed è una bella botta E la cosa che mi è piaciuta È che L'incendio parte Dagli esterni Quindi Da dove ti costa Meno posizionati Quindi tu tenderai Magari A metterti lì Perché Ti costa A risparmi Però Sei anche un attimo Il primo ad essere colpito Dall'incendio E se non c'è nessuno L'incendio Cioè Una volta che sei colpito Però poi l'incendio Va avanti E tu quindi Durante la partita Devi riuscire Ad avanzare Su questo tracciato Che ti permette Di proteggerti Dall'incendio Ma Ci sono talmente Tante altre cose Da fare Più proficue Che quello Lo metti un po' da parte Però Quando ti arriva Se ti arriva Ed è quello Anche bello Perché tu non sei certo Che ti Arrivino Potresti non essere mai colpito Dall'incendio Per tutta la partita Ma se ti bastonano Fanno male Tanto male E questo aspetto Mi è molto piaciuto Sì Il gioco è veramente Molto molto piacevole Anche a livello Di interazione Tra i giocatori C'è Si sente Non è comunque Così tanto Pesante E funziona Veramente tutto bene Il gioco Mi ha proprio dato Una bella soddisfazione Mi ha proprio divertito Giocarlo E non capisco Perché dicono Che in due Allora Da un lato Sì Perché per alcuni Aspetti Per alcune meccaniche Del gioco È vero Che soprattutto Sulla sveglia Quindi sul determinare Quanti passi Ho da poter fare Con il mio mercante È un punto Dove c'è Tanta interazione In due giocatori Sicuramente Lì si va a sentire Di meno Però comunque C'è tutta una parte Di mappa Apposta per i due giocatori E non so Secondo me Sono curioso di provarlo In due Perché non vedo Perché non dovrebbe Funzionare Perché sì La cosa del tracciato Si Quello di quando ti svegli Quello secondo me È lì Che poi va a perdere Un po' È lì un buon punto Di interazione Perché proprio Quello iniziale Centrale Un po' Del tuo turno Però Se ci sarà Un passo e mi tocca Doverne fare tre Eh però comunque Cambio perché Non raggiungo il posto Dove voglio andare Non raggiungo il posto Dove voglio andare Certo però Non lo so Vedremo 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 Comunque mi è piaciuto molto Inche me Approvato E abbiamo poi provato Woodcraft L'ultimo titolo Di Vladimir Suki O penultimo Perché adesso è già uscito Con quello nuovo Sta per uscire Exodus Evacuation Evacuation Sta per uscire quello Ma questo è il titolo Di Suki Della scorsa Essen Questo anno In questi ultimi mesi Abbiamo anche recuperato Praga Messina Siamo riusciti anche a provare Woodcraft Titolo che ci è stato Incensato da più fronti Dicendo che è uno dei più bei giochi Mai usciti Assolutamente A voi che piacciono Gestione Dadi Lo dovete assolutamente provare L'abbiamo giocato E È una cagata pazzesca E l'ho trovato E l'ho trovato Un gioco Che ho giocato Con piacere Molto mediocre Secondo me Come tipologia di gioco Particolarmente largo L'ho trovato In quanto Noi siamo Questi Elfi Folletti Che creano Souvenire in legno Prenderemo Questi dadi Che rappresentano Varie tipologie di legno Con i vari Numeri Sopra i dadi Che ci serviranno Per degli obiettivi Noi dovremmo avere Certi dadi Di certi colori Con certi numeri Dovremo fare in modo Di riuscire ad averli Per completare Questi obiettivi Il fatto è che Il gioco come dicevo Ti permette in modo Molto molto semplice Tagliando questi dadi Incollandoli Utilizzando gli scarti di legno Per modificare Fare il più uno Al valore di dado Di riuscire a fare Bene o male Tutto quello che devi Per completarti I tuoi obiettivi E fare punti Poi capisco Che Possa sembrare A un occhio Magari un pochino Più acerbo Un gioco Che ha Cavoli Hai mille cose Da dover fare Non riesce a farle tutte Sì Perché di quelle mille cose 880 Sono cose Che non servono Assolutamente Ai fini del gioco Ci sono Parti Accessorie Del gioco Che sono La soffitta Dove mettere Gli attrezzi Ma gli stessi assistenti Che ci sono Nel gioco Che ti danno Delle abilità One shot Permanenti Da attivare Ok Che ti danno Delle rendite Che in realtà Non servono Assolutamente A niente Perché lo scopo Del gioco E' quello di Prendo i dadi Li compro Li vendo Li modifico E cerco di avere Ciò che mi serve Per fare i miei obiettivi Che mi daranno punti E mi daranno soldi Le more del gioco I mirtilli del gioco Con cui Acquistarmi nuovi dadi Quel pezzo di gioco Funziona benissimo E' bello E' piacevole E' molto largo Però va bene Un gioco semplice Mi sta bene Che sia così Che fa finta Di essere pesante Aggiungendoti un sacco di roba E so che è la stessa cosa Che ho già detto Anche di Praga e Messina Probabilmente in modo molto simile Questo è migliore Decisamente di Praga e Messina Mi è piaciuto di più L'ho trovato La parte centrale Proprio di questa Gestione dadi Perché poi è quello che si fa Per quanto sia molto blanda L'ho trovata comunque Bella Interessante E molto ben ambientata Perché il gioco poi E' molto molto ben ambientato Pur essendo Un Eurogame Per il resto E' un gioco Come ce ne sono tanti Che cerca di Buttarti un po' di fumo Negli occhi Facendo finta Che ci sia chissà cosa Perché ci metti una vita Se tappare il gioco C'hai mille elementi Poi gratti un pochino La superficie E vedi che sotto C'è un gioco Non dico brutto Perché i giochi brutti Sono altri Però un gioco Come tanti altri Parole dure Ha già detto Praticamente tutto albisi Anch'io volevo sottolineare La questione Dell'inutilità Perché poi fondamentalmente È inutile La parte degli assistenti E del tetto Scrivete Chi l'ha giocato Ci scriva nei commenti Cosa ne pensa A proposito del tetto E del Perché Sono anche cose Che difficilmente Prendi durante il gioco Soprattutto la parte del tetto Che ti dà queste tesserine È difficile averle È molto casuale Che escano carte Che te le diano Nelle partite Che abbiamo fatto noi Ne abbiamo viste Una o due Nei contratti Quindi ce n'è anche Boh Però rispetto A Messina E Praga Questo mi è piaciuto Molto di più Nel senso È ben fatto La questione che dice Albi Del largo Cioè intende Che se io voglio fare Una cosa Ma quella cosa In quel momento Non riesco a farla Perché mi manca Del materiale Perché mi manca Una cosa Perché Ne faccio un'altra E ci arrivo E ci arrivo Lo stesso Magari ci arrivo dopo Ma ci arrivo Posso spendere le lanterne Per cambiare l'azione Spenderne tre Per fare l'azione In più Dire ora non faccio l'azione Ma mi prendo i miei artigli Con cui poi mi compro Quello che mi serve Esatto Perché se poi tu hai l'azione Che ti scegli Non ti serve a niente Perché non la puoi fare Perché prendo i miei artigli Che sono soldi Va bene per tutto E servo un semprissimo Lo faccio per due volte Ho un sacco di miei artigli Quindi ho un sacco di soldi Quindi mi preparo Per poi fare dopo Esatto E non mi è cambiato niente Però c'è Diciamo che appunto Non è male Perché assolutamente Non è male Ma è tanto largo E scelte poco impattanti Nel corso della partita Non è un gioco Di dici Oh mio Dio Devo riuscire a fare queste cose Altrimenti perdo Adesso No Altrimenti faccio un punto in meno Cioè banalmente Ci è capitato proprio anche di Fare magari Aumentare tanto la reputazione Fare partite dove la reputazione Non l'abbiamo mossa E comunque fai più o meno Sempre gli stessi punti Cioè questo È indice di un gioco Anche tra i giocatori Sì Indice di un gioco Che è Sì molto ben bilanciato Ma è anche un gioco Dove le mie scelte Sono anche un po' poco impattanti Secondo me Quindi Boh Cioè non è brutto Assolutamente non è brutto Ma In questo target In questo target Secondo me C'è tanto di meglio Tanto di meglio E finisce così Della nostra settimana ludica Vi ricordiamo Nuovamente Che lunedì è uscito Il nostro gameplay Di Fire Siege E attiva la campagna Game Found Quindi se non l'avete visto Vi abbiamo incuriosito Andate a riguardare il gameplay Invece mercoledì È uscito proprio il gameplay Del maledetto dilemma Quindi andatelo a vedere Perché noi ci siamo fatti Un sacco di risate A registrarlo Vi sono fatto un sacco di risate Quando l'ho rimontato Ho proprio riso di gusto Anche a rivederlo E quindi Vedetevelo Se vi è scappato Perché vale Vale davvero Assolutamente la pena Noi vi ricordiamo ancora Che domani e domenica Ci troverete a Salso Maggiore Al Salso Ludix Quindi Se siete in zona Passate che abbiamo Tempo e modo Di chiacchierare Stare assieme Giocare Berci il caffè Mangiare qualcosa Se c'è da bere e mangiare Noi ci siamo sempre Quindi ci trovate facile E signori Noi ci vediamo lunedì Con i nostri prossimi video O meglio Ci vediamo lunedì Sabato scorso però È uscito il video speciale Della Domus Ludica Andatevi a recuperare anche quello Non so anche quando vivo Però sì È uscito l'altro sabato Quindi Ciao Come sempre Si gioca per giocare Giulia vi salutano Che gioco sia con voi Ciao Ciao